salve a tutti eccomi qui in una nuova puntata ah già sto caricando i video su youtube adesso comunque ho un grosso dilemma ragazzi aiutatemi voi dovete aiutarmi a scegliere una webcam si sto girando i video con il mio galaxy s3 però volevo una risoluzione un po migliore quindi aiutatemi a scegliere una webcam che faccia video decenti grazie mille commentate qua sotto